sarà utile. Certo. E abbiamo anche altro materiale pubblicitario. Bene. A quanto pare tutti i ristoranti e i negozi della costa hanno accettato di finanziare l'iniziativa, eh? Sì, e Jack Biden sosterrà quasi tutte le spese. Spero solo che le ragazze non siano poche. Oh, è chiaro che anche tu parteciperai al concorso. Oh no, io devo pensare all'organizzazione e non ho tempo per fare altro. Ehi, c'è una schiera di guardaspieggia disposti a regalare una tonnellata di dollari pur di avere in gara una di loro. Vorrei dire che in gara ci sarà una di loro. Ma chi?